Quest'anno siamo qui a Ost per la prima volta, una fiera che diventa sempre più interessante soprattutto per i mercati esteri. Ci affacciamo a questa fiera con tre novità, quasi una per canale. Nell'oreca presentiamo delle cialde monorigine con caffè arabica preventita dal Perù. Per quanto riguarda il segmento retail invece presentiamo una linea di prodotti completamente rinnovata sia graficamente che con l'aggiunta di prodotti nuovi. Per quanto riguarda il mercato degli uffici presentiamo un sistema che si chiama adesso Espresso, un sistema chiuso che permette quindi di poter gustare un buon caffè anche negli uffici. Siamo a Ost per presentare i nostri prodotti ai mercati internazionali, diventa un appuntamento sempre più importante quindi per noi è una vetrina sia un appuntamento per incontrare i nostri clienti esistenti ma una vetrina per presentare i nostri prodotti e le nostre novità a potenziali partner di domani.